89 positivi, 334 guariti e 3 morti. Questi principali numeri del report di oggi diriamato dall'assessorato alla sanità della regione. Abruzzo sotto controllo resta in giallo con Celano in rosso assieme a Sant'Egidio alla Vibrata che però fa riferimento all'ordinanza dei giorni scorsi, così come spiega il presidente della regione Marco Marsilio al termine della riunione sulla cabina di regia che si è svolta nel pomeriggio. Purtroppo la relazione dell'Asra dell'Aquila ha chiesto la conferma di questa settimana ulteriore per il comune di Celano, in realtà sono due perché c'è anche Sant'Egidio alla Vibrata che abbiamo messo in zona rossa pochi giorni fa e la cui situazione va in scadenza a metà della prossima settimana, anche se come sempre accade siamo pronti a rivalutarlo. Negli ultimi giorni il comune di Sant'Egidio ha avuto zero casi, quindi l'Asra di Teramo continuerà nel fine settimana a verificare questa situazione. Se dovesse andare avanti così già dall'inizio della settimana, con qualche giorno di anticipo, potremmo ripristinare la zona gialla anche per Sant'Egidio. Per Celano invece no, perché purtroppo c'è una condizione tuttora di numerosi contagi con una sospetta presenza di varianti che evidentemente impone, secondo la legge, maggiore cautela e quindi protezione della situazione. Una buona notizia è data dal Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie che pone l'Abruzzo in arancione. Gran parte dell'Europa è invece in rosso. Un indicatore, quello dell'Europa, che fino a poco tempo fa metteva tutta l'Italia in rosso scuro, poi rosso, tutto il resto dell'Italia rimane in rosso, l'Abruzzo è tra le quattro regioni che invece vengono classificate in arancione, vuol dire che sta diminuendo anche a giudizio dell'Europa, del Centro europeo di controllo delle malattie, sta migliorando la sua condizione. Spero che questo messaggio passi molto nel resto dell'Europa, in modo che i turisti possano, scegliendo l'Italia, magari dirigersi in particolare verso l'Abruzzo, sapendo di trovare un luogo più sicuro. Grazie. 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 Grazie.